Allora, chi sei? Nessuno ti conosce nella mia chat Qualcuno si, qualcuno si Allora, come mi descriverei? Youtuber, content creator, tiktoker, videomaker, grafico Faccio contenuti di intrattenimento misto a... Fai pseudomotivazione Ok Marco falla presentare perché... È vero, Aelita, tu, giustamente perché anche la mia chat alcune persone sono curiose Chi sei? Salve, mi chiamo Roberta, in arte Aelita E sono una streamer su Twitch Content creator, se così si può dire Diciamo che ci provo E porto per lo più videogiochi, format, un po' di tutto Però per lo più videogiochi, ecco Paradossalmente, tu sei stata anche una ex pro player di qualcosa? Sì Sapevo Di Apex Legends con macette gaming e McDonald's Sono curioso di sapere cosa hai preparato per oggi Niente, a me piacciono le cose spontanee Ah, ok, bello Hai letto qualcosa tra voi due? Assolutamente sì, ragazzi Aelita stiamo insieme Dirlo così Adesso i spec di Aelita si dimezzano giustamente Però Aelita Quanto è vero quella cosa, cazzo Quanto è vero No, no, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero Non stiamo insieme Non stiamo insieme Per ora Ok, no, sono un tipo molto ironico Lo so, lo so, lo so, non ti preoccupare anche noi Solo che, a me senti quando si dice che la chat rappresenta lo streamer Ok Che è completamente giusto Cioè per me la chat rappresenta lo streamer Perché tu stai educando la tua chat con le tue regole, eccetera, eccetera Ok Se tu li lasci dire certe cose, li lasci comportare in un certo modo e poi ti lamenti che loro si comportano così, è colpa tua Vero, io non streamo da un botto però Cioè io proprio ho preso, ho accantonato Twitch perché era troppo pesante Io non so come tu faccia ancora a streamare con i ritmi di uno streamer medio Non lo so, non lo so, è una passione, è l'unica cosa bella della giornata per me Cioè non ti stanchi tipo a star tre ore davanti a un pc Sì, mi stanca ovviamente, però non lo so, per me appunto quando dice proprio Stavo dicendo la chat rappresenta lo streamer La mia chat c'erano tutti quanti dei disagiati La maggior parte come me, cioè sono la maggior parte introversi come me È il mio gruppo di amici che non ho nella realtà, no? È come stare con un gruppo di amici Tanti amici Vabbè, non tanti, abbastanza Io non so quando avresti uscita con un gruppo di 50 persone però Beh è successo forse, no, non penso Tu non hai mai pensato di passare a YouTube? Io sono il diavolo tentatorio Io pubblico Faccio la gente Twitch Pubblico due video, no, tre video a settimana Di YouTube Ok E tre shorts a settimana E non è che sono la YouTube No, io ti parlo proprio lasciare Twitch No, è troppo pericoloso Ma lo stanno facendo tutti tipo Ma non lo voglio fare Perché cioè YouTube Non è come Twitch Twitch io letteralmente interagisco con delle persone Capito? Nello stesso momento Ed è proprio questo che mi piace Eh, è tutto pure No, perché se YouTube io edito il video Fa così, lo faccio uscire Ok, ciao Commentino Ciao Invece no, così siamo nel tempo reale a parlarci Come se stessimo uscendo tutti insieme Capito? Ok Quello che mi piace Le persone famose durante il Covid O iniziavano a streammare O facevano canzoni Basta O streamavi o facevi canzoni Questo per i creator quelli grossi Per quelli piccoli Notavo che si distaccava in due E c'era O chi Tipo faceva attività fisica Si spaccava di palestra Si spaccava di cucina Oppure Chi mangiava e si spaccava di serie tv Io ho pensato Che palle tutte e due Qualcos'altro La voglio fare Allora pure io ho incominciato Tipo a streammare Dal nulla Totalmente a caso Anch'io Cioè nel senso Non è tanto a caso In realtà Era prima della mia maturità Quindi tipo Due anni fa Due tre anni fa Non lo so Non mi ricordo E quindi Diciamo che Essendo stato Il periodo in cui È arrivato subito La scuola Non sapeva cosa fare Disorganizzazione al massimo Cioè ho fatto la maturità Nell'anno in cui ho scoppiato il Covid Ok Allora non è che Boh si facesse molto Avevo finalmente Del tempo per giocare Perché è sempre stata la mia passione Ho sempre giocato Da quando ero piccola Avevo del tempo per giocare Cazzo finalmente Perché ogni volta Anche se magari avevo del tempo Ero troppo stanca per farlo Ero veramente troppo stanca Quindi mi ci sono messa E c'è stato Mio amico mi ha detto Ma sai che Potresti cominciare A streammare E io non Cioè Twitch lo sapevo Che cos'era Ma non l'ho mai usato Perché Io ho sempre preferito YouTube Prima Perché Video già editati Me li vedo con calma Molto più stable Semplice Easy Io Cioè so abbastanza Sapevo abbastanza Del mondo YouTube E quindi guardavo sempre i video lì Mi dicevo Boh vabbè ma Ma chi se la va a vedere Una live Di tre ore Tutto il tempo Cioè ma tutto bene Capito E allora No aspetta Seriamente Tu adesso che sei una streamer Tu te la guarderesti mai Una live da tre ore Me la guarderei Se non fossi una streamer Cioè io me la guardavo prima Ok Io ti dico la verità Io sia da streamer Che da non streamer Dieci Quindici minuti Poi quittavo Non Non Credo di avere La storia dell'attenzione Troppo bassa Per guardarmi una diretta E allora Cioè in questo momento A chi mi sta guardando Io non so come faccia E anche io questa cosa Me la chiedo sempre Cioè io mi dico sempre Ma perché una persona Sta guardando me Invece che guardarsi Invece che guardarsi Power Curulini Cioè capito Ma nemmeno Nemmeno Io non so come la gente Faccia guardare gli streamer Proprio è lungo Tre ore di tempo Sono tante E allora Allora Da un certo punto Ti dico sì Dall'altro ti dico Tu devi essere bravo Quindi a catturare L'attenzione di così Tanta gente E farli rimanere Cioè non parlo di persone Che magari sono già Fermate Quindi possono fare Quello che vogliono Tra virgolette Ma di persone Magari che devono E vogliono crescere E quindi devono cercare Di impegnarsi un botto Perché è già stato fatto tutto Se vuoi spaccare Devi avere un'idea geniale Quindi devi essere Un genio per spaccare Oppure devi seguire Dei trend E sperare che vada Che tu abbia fortuna Insomma se vuoi spaccare In questo periodo storico È veramente difficile Perché quello che faccio Io lo fanno un sacco Di altre persone Quindi perché una persona Dovrebbe scegliere me Rispetto ad un'altra Io non ho niente in più Rispetto ad altri Beh oddio Non hai niente in più Ma hai qualcosa di diverso Diciamo che Secondo me Le persone mi guardano Perché magari Posso fare compagnia Sono simpatica E sono educata Magari Cioè questo è quello Che penso Che io sono nelle mie live Tengo compagnia Sono abbastanza simpatica E sono educata Cioè tratto bene tutti quanti Comunque Alcolgo sempre bene tutti quanti E mi impegno Però a parte questo Magari penso che c'è gente Molto più divertente di me Che mi intrattiene molto di più Anche di me Che ha un umorismo Una personalità molto più spiccata Della mia E quindi la mi chiedo Beh Quindi perché una persona Deve guardare me Rispetto ad un'altra Ed è la domanda E mi faccio sempre Sempre Per cercare di migliorare Quello che io già faccio Cioè perché Devono guardarmi Rispetto ad un'altra persona Di conseguenza Ho cambiato tutto Ho stravolto tutto Cioè proprio il canale È ricominciato da zero Un sacco di volte Perché non riuscivo a trovare gli orari Non riuscivo a trovare Il content giusto Non sapevo cosa fare Quell'altro non funzionava Ero nel panico Non lo so Ci ho riprovato 3000 volte Poi quante volte Ho pensato di mollare Mamma mia Mamma mia Troppe Vedi il problema Il problema proprio di Twitch Secondo me è proprio questo Che ti porta A un esaurimento nervoso Madonna Prima di qualsiasi altro social Cioè io con TikTok Magari avevo un esaurimento nervoso Una volta al mese Una volta ogni due mesi Io con Twitch ogni settimana Era un Che palle Faccio questo non va bene Faccio quest'altro non va bene Faccio questa roba qui Assolutamente E quindi io me la trovo Perché era proprio pesante Se respirava troppa aria pesante Con Twitch Sono d'accordo È vero Se tu metti dei soldi E poi non ti ritornano indietro E così per tanto tempo Ti senti un po' Che stai buttando i soldi Questo è un lavoro Che ci vuole tanto tempo Per Per ingranare Dipende Cioè nel senso Io I miei primi anni Su Twitch Tipo C'era la parte Della si sto buttando soldi Però dall'altra C'era la gratificazione Di avere un qualcosa di bello Cioè nel senso che Avevo buttato Magari millemila euro In stronzate Però tipo da fuori Guardavo il mio canale Tu ci dici Guarda cazzo che bello Cioè magari Una persona con 3000 spect Questa cosa qua Non ce l'ha Però io ce l'ho E quindi Secondo me Guardare proprio Il lato monetario È quella cosa Che ti ammazza Però dall'altra parte Magari Ti incoraggio Di più a continuare È tutta una questione Di numeri Di come Di come appare le persone Devi piacere la gente Le persone Molto spesso Si soffermano Solo su quello Cioè non è tanto Come la pensi tu Ma anche come La pensano gli altri Purtroppo diciamo Che questo Tra virgolette Lavoro dove Devi dare Ovviamente Entre i limiti Peso A quello che Pensa la gente Molti limiti Però posso dire Una roba Cioè io sono Sono arrivato a un punto Proprio dove Che ne so Magari avevo un'idea figa Avevo bisogno di qualcuno Che me la finanziasse E lei per forza Bisogna parlare di numeri Tipo View Average Cose Che è la parte più odiosa Secondo me Del nostro lavoro Mi sto mettendo in piedi Che è da tutto il giorno Che sono seduto Ah Allora io non mi potrei Mettere in piedi Perché Sarei così Eh non A me deve caricarla live Vabbè Tipo Alzi un pochino La cam Vabbè no Io ho la scrivania Che si alza e si abbassa Eh io no Mi spiace Ma non ce li ho Questi soldi Eh infatti Che soldi ho soldi Flexispot Grazie per la scrivania Sono gentilissime Vedi qual è il bello Di fare youtube È che per esempio Se io avessi continuato A fare twitch Cioè st'azienda Tipo non mi avrebbe mai Inviato due scrivanie Un ecco montato A casa del mio migliore amico Entrando in casa Senza che lui lo sapesse Montargliela Vedi youtube ti permette Di fare queste cose Un botto secondo me creative Che twitch un pochino limita O almeno Non limita Dal momento in cui Hai un botto di soldi Cioè almeno Quindi su twitch O fai le cose fighe Ma devi avere tipo Un barco di soldi Poi nada E se fai tutti e due? Twitch youtube Sì Che è quello Che sto cercando di fare io Perché in realtà Cioè vorrei twitch Come piattaforma principale Ma tutti gli altri social Mi servono per farmi conoscere Ok Io ci ho provato Stavo morendo Eh sì lo so Non è fattibile Devi Cioè devi sborsare Quello che hai adesso già Tipo dieci volte di più Per far Montare i video Far scrivere i video Cioè io per esempio I miei video Non sembra Ma io ho una persona Ci sono del parere Ci sono del parere che Noi abbiamo già Quello che meritiamo Non sempre così Secondo me Aspetta Quante volte ti capita Di ricevere magari in chat Il tipo che ti scrive Meriteresti più spec Sì Accade spesso no Sì Ok Ma tu non hai mai pensato Di avere già quello che meriti Cioè perché un power Sta lì Perché ha un sacco di anni Di Di Alla spalla Vero Però lui ha già quello che si merita Però sai cos'è È che secondo me Non dico che fosse più semplice Ma lui fa questa cosa Da veramente tanto tempo E quindi era già conosciuto Da 3.000 altri motivi Perché faceva il player Per quello Per quell'altro È sempre stato nel mondo Degli FPS Ha iniziato a streamare Quando Come Al Quando c'era pochissima gente No Io ovviamente Non sto sottovalutando Perché per carità Assolutamente no Se li merita Assolutamente Però effettivamente Cioè se una persona Se una persona facesse Quello che fa power adesso Non avrebbe i suoi spettatori Perché esiste già power E ce ne stanno tanti così Vero Vero Ma secondo te Tipo Cioè oggettivamente Uno segue power Non perché è stato il primo Cioè No non è stato il primo No però in chat Leggo gente magari Che dice Magari ha cominciato Quando non c'era nessuno Ed è vero Però cazzo Cioè io Quando apro una live di power Io la noto La skill Anche se tipo Non sono un pro player Cioè Lo noto che questo stronzo Tipo Con una mano Fa Traccato qua E Ti ho già trivellato di colpi Ma ce ne sono molti altri Anche validi Come lui eh Battigio ce ne stanno tantissimi Solo che Infatti Quasi tutti hanno Ciò che si meritano No Non sono d'accordo Secondo me No No Cioè per quanto riguarda Twitch almeno Perché Un conto è se mi dici Ok Ti sta impegnando effettivamente Su tutte le piattaforme Per cercare di crescere Allora Te lo stai meritando Un conto è solamente Twitch Quindi fare solo Twitch E basta Fare magari le stesse cose Che fa Power Abbiamo messo Power Come esempio E non avere la stessa La stessa conoscenza La stessa fama Perché Il posto è saturo Cioè C'è già un sacco di gente Tu saresti la copia Della copia Della copia Inutile Anche se è la tua passione Secondo me E quindi Ipoteticamente no Se io ti Ti dicessi Fammi Il nome Di Qualche player Pro player Streamer Che meriterebbe qualcosa Ma non l'ha Ce ne stanno tantissimo E secondo te E secondo te Perché non l'ha Allora Ce ne stanno un sacco Allora Primo punto A parte che è pieno Esattamente Essendo che sono stata Nell'ambiente Dei pro player Dei competitive Eccetera Ho conosciuto veramente Perché tu parli Perché tu parli Mettendoci le emozioni Di mezzo Perché tu parli La persona Non è conosciuta Per niente Mi odiano tutti invece Te lo giuro Non sono in rapporti Con nessuno di loro Per questo Un altro dei motivi Per cui io ho lasciato Cioè Esiste già il power Perché avere un secondo power Un terzo power È difficile Farsi conoscere Adesso che Esiste così tanta gente Pulula di così tante persone Vuoi farti conoscere Ok allora Ti devi fare in quattro Devi farti conoscere Su tutte le piattaforme TikTok che è il mezzo Praticamente più semplice Per andare in trend E farti conoscere Come personaggio Fare un contenuto Aderente Diciamo inerente Al tuo personaggio E cercare di farti conoscere Per quello che sei Boom Io faccio Pubblico su videogiochi Allora io Sono quella che fa Che è la che gioca Videogiochi Che parla di videogiochi Perfetto Lei è ilita di Twitch Perfetto Poi Ce li mettiamo su Instagram Ce li mettiamo su YouTube Secondo questo ragionamento In America dovrebbero avere Un solo pro player Ma noi non siamo in America Siamo in Italia Dove le cose fanno schifo E siamo un terzo Neanche un terzo Su Twitch avere In Twitch Italia Avere 100 spec Oh mio Dio Averli in America È una cosa semplice Sì Sono ovviamente tantissimi Sono tantissimi In America Sono un botto Però Da noi Twitch La maggior parte Non sa Ma cos'è Cioè Siamo veramente Tanto dietro Basti pensare Che ci sono ancora Qua in Italia Moltissimi posti Di sale land Chiuse ancora Che non possono Ancora mettere i computer Tipo il playground Stanno senza computer Ancora Io da quel che so Tipo per esempio Ai miei amici Dell'esport Palace di Bergamo So se li conosci Sì sì lo so Lo so Alcuni hanno aperto Sì ma hanno reperto Ma da mo Diciamo che non è così semplice C'è un botto Di roba dietro Un'altra cosa È che Le piattaforme In genere Cioè A parte i consigliati Non è che Allora Motico delle cose Veramente stupide Però Un punto di riflessione Non valorizzano I piccoli streamer Nessuno Valorizza I piccoli streamer Come La scaletta Delle persone Che tu guardi E che segui Vanno da Quello con più spectra A quello che ha meno Quindi per avere Quello che ha meno Devi cliccare Per forza Mostra di più E guardarlo Se no No Che ne so Twitch Italy La pagina Degli streamer Pubblicano sempre I stessi stronzi Che per carità Mi piacciono Però pubblicano sempre loro Perché sanno Perché sanno Che quella persona lì Può essere interessante Solo per un fattore di numeri Ritornando al discorso E allora vedi Allora vedi Ci siamo risposti da soli E effettivamente Abbiamo quello che meritiamo Sì e no Cioè secondo me C'è un 50 No Se noi c'è un 50 Eh ma tu non devi nulla A una pagina Che posta Ma ho fatto questo Come esempio È un esempio Ma io parlo in generale Anche come Twitch Che è un posto saturissimo Che pulula di persone Se tu non vieni consigliato Rimani lì Allora ti impegni Allora dici Ok adesso mi impegno Allora Però adesso io ti dico Magari perché YouTube è meglio Perché io su YouTube Per esempio Senza spinte Senza gente che mi consigliasse Senza roba YouTube nonostante Se tu hai qualità YouTube ti spinge Per esempio Sì È vero Però io sono sicuro Che è la stessa cosa Anche su Twitch Cioè io ti faccio A me piace sempre Prendere Grimbaud Come esempio Perché nonostante Grimbaud faccia un intrattenimento Che a me non va giù Cioè nel senso È cringe Crea delle situazioni cringe Che non riesco a guardare Chiudo subito Oh lui Nonostante Faccia roba cringe Roba eh Lui è riuscito a differenziarsi A creare il suo contenuto A far vedere quello che sa fare Ed effettivamente Ha avuto quello che si meritava Il successo che Gli altri vedono in lui Allora a me non piace Quello che fa Cioè nel senso Sì perché magari Sì ma Ripeto come a me Cioè può creare Quelle situazioni cringe Che gli altri non Il cringe va in Italia Oh grazie Il cringe va in Italia Alla gente piace il trash Certo Anche all'estero C'è sempre all'estero Ma soprattutto in Italia Scusa accenditi la cazzo di tv E vedi cosa portano in televisione Non guardo la tv da anni Perfetto E allora guarda ti sei risposto da solo Perché non la guardi da anni Per questo motivo Perché preferisco youtube È molto più intrattenente Appunto perché non c'è un cazzo Fa schifo L'intrattenimento E alla gente Piace il trash Piace il cringe Ma come alla gente Piace vedere il drama Piace vedere Quelli di tiktok Le conoscenze Tutto quanto Va bene Però non sempre così C'è Non è che a tutta La gente Piace vedere Cioè a me piace sempre fare L'esempio dei grandi numeri Fai conto che tu piaccia Anche solo all'1% Dell'Italia Sai quant'è l'1% Di 60 milioni È tantissimo È tantissimo E quindi io vivo Nell'ottica Che io almeno All'1% Degli italiani Piaccia Ma semplicemente Non mi hanno ancora scoperto Tu devi partire Con il presupposto Che non devi dare la colpa Al 99% Degli altri Che porta roba cringe Ma l'1% tuo Che fai È veramente rilevante Ricordo anche una cosa Però In tutti quegli italiani Perché se stiamo parlando Di popolazione Vabbè Ovviamente Era un esempio Però magari mi ricollego A quello che ho detto prima Sulla tv Pulola di persone anziane Cioè nel senso C'è un tasso Di vecchiaia Incredibile Ed è per questo Che ci sono tantissimi problemi E siamo nella situazione In cui siamo Allora Io vivo con l'idea Che Io vorrei Vivere Facendo quello Che mi piace E basta Cioè Vorrei fosse Capi Cioè nel senso A me Cioè se io potessi vivere Con 10.000 visualizzazioni A video Io basta Io mi limiterò Alle mie 10.000 visualizzazioni A video Allora ti faccio una domanda Però Però Da un'altra parte Essendo un egoista Bastardo Ego centrico Di merda Perché oggettivamente Io sono di idea Che qualsiasi content creator Per forza È egocentrico Gli piace parlare Di se stesso Vorrei far sempre Vedere le mie robe Agli altri Cioè se io potessi Che ne so Col mio telefonino Prendere il mio video E farlo vedere A un milione di persone Ma a me cosa ferma Dal prendere il mio telefonino E far vedere il mio video A un milione di persone Non posso farlo Farlo perché Fisicamente è impossibile Però trovo metodi Diversi Che ne so Fai il video su tiktok Fai La marchettata qui La marchettata lì Non so se è arrivato Quello che volevo dire Sì Diciamo che Poi collegandomi a questo È un po' un'arma a doppio taglio Tipo fare qualche trend Roba del genere Perché Poi magari La gente Ok Ti ha seguito per il trend Però non per quello che sei Cioè non sei stata conosciuta Per quello Ma per il trend Capito Ed è sempre questo Che è pericolosissimo Fare i trend Io ti dico Io seguo Non so se sai chi è Marcello Ascani Sì Ok Lui praticamente porta una serie Chiamata Cosa compro con un euro Non so se l'hai mai vista È famosissima Lui Cioè in generale Proprio come Come format È famoso Lui praticamente va Nelle città italiane E vede con un euro Cosa può comprare Lui stesso Fa che Quella serie lì La fa Sì per scoprire Il posto Tipico Cose Ma la fa Proprio perché A lui porta Tantissimi numeri Che poi lui Magari che ne so Da quel Milione di visualizzazioni Fatto da un trend Lui Screma la gente Veramente interessata A quello che fa E poi continua a fare I suoi video Normalmente Però ti sei dimenticato Del fatto che lui Lui sia già conosciuto Per fare questa cosa Se invece sei una persona Che deve crescere Deve essere conosciuta Non può fare queste cose Perché se no la gente Cioè verrai conosciuto Per una cosa passeggera Che è un trend E non per quello che sei Surmacchio Allora quello è un altro discorso Allora quello è un altro discorso Perché stiamo parlando Di un Praticamente Il content Più conosciuto Che va di più Io non ti parlo del food Io non ti parlo del food E di cosa? Quando portava Eurotrack simulator Un gioco Uscito nel 2013 Che non si Inculava Nessuno Surmacchio In una settimana Da 20 Spect Che faceva Aveva una media Di 400 Spettatori La sua vita Da così a così In una settimana Perché guidava Un camion di merda Cioè io sono dell'idea Che chi vuole crescere Chi magari vuole farsi notare Ce la fa benissimo Il problema però È che c'è sempre bisogno Di quella Di quella cosa lì Che in Italia Magari nessuno fa Cioè lui era l'unico In Italia a portare Simulatori Nessuno al mondo Faceva simulatori Apposta Hai avuto la risposta Cosa? Hai avuto la risposta Perché era l'unico a farlo Vero? Devi fare delle cose In innovazioni Esatto Devi essere innovativo Per crescere Però se magari Non hai questa innovazione Però vuoi Vuoi fare quello Che ti piace Esempio io Non è che faccia Delle cose super innovative Magari ogni tanto Lo faccio Però Cioè faccio comunque Delle cose che fanno Per esempio Che ne so Io sono molto simile A Kodomo A Tipo che ne so Quello che porta A Kafka Furulili Ok Queste sono diciamo Le persone a cui mi avvicino Siamo ovviamente Delle persone diverse Però bene o male Cioè che ne so La schedule è simile Facciamo le stesse cose Bene o male Poi io invece faccio Questa rubrica Perché mi devo far conoscere Devo farmi conoscere Da più gente E quindi ho bisogno Di avere un format Una rubrica Ok Per far dire Ok questa elita Che parla di videogiochi La vado a seguire Perché mi piacciono i videogiochi Cioè allora Io sono convinto Che sui social Non si cresce In maniera esponenziale Ma di botta in botta Sì Sono completamente d'accordo Anch'io Cioè nel senso Che tu hai Magari che ne so Oggi Tipo Michele Molteni Michele Molteni Da fare 30-40 mila view Boom Video del bunker Tam Mezzo milione di follower Sì 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 Soprattutto se magari La piattaforma Riesce a spingerti Perché può essere Che magari Che ne so Vai virale senza motivo Come va sempre su tiktok Eh hai fatto Hai finito bro È fatta Cioè nel senso Brevissimo Complimenti Magari non avevi fatto Anche un video di merda Magari Però arriviamo Nel punto Secondo me Più Il tasto dolento Un po' di tutti Che su 100 persone Una ce la fa Però Perché su 100 persone Una ce la fa Perché solo una Secondo me Ha la vera visione Del contenuto Secondo me La parola contenuto Ad oggi È strastuprata Cioè nel senso Che la gente Parla di contenuto Un qualcosa Che non lo è Nel senso Che ormai Cioè per dire Io faccio contenuto Magari Giocando a un videogioco E no stronzo Cioè Non è che Giochi al videogioco E basta Quello è contenuto Io mi aspetto Del contenuto In un altro modo Con un videogioco Tu puoi farti aiutare Dal videogioco Per fare contenuto Il contenuto Devi essere Tu che fai una roba Esattamente E allora a quel punto Poi arriviamo A tutti gli streamer Tipo che ne so Quei baby streamer Da 10 20 spect Che in un modo Nell'altro Arrivano a dire E no ma è la piattaforma Che non spinge E questo che non fa E quell'altro che non fa Mè Cioè nel senso No Non No Che è Ah si Ah si 1v1 Firing space Ti esplodo la faccia Chi è Saluta Mamma Salve signora Chi c'è Chi c'è Salve signora Ha detto Salve signora Il fidanzato nuovo di sua figlia Ciao signore Ciao signore Lei chi è Il fidanzato nuovo di sua figlia Dice il fidanzato nuovo di sua figlia Aspetta Aspetta un attimo No No Mia figlia è single No Era Single signora Ha detto Era single signora Lo è tuttora No No Anche no Potrei Potrei regalargli dei fiori Come quelli che ha in questo momento Potrei regalarle dei fiori Come quelli che ha in questo momento No Io li accetto da mia figlia Mi dispiace Infatti li avrei regalati a sua figlia Signora Infatti Lui ha detto Infatti li avrei regalati a sua figlia Signora Si li puoi regalare a mia figlia Ma come amico Quello è bellissimo Come amico C'è Chiedi Chiedi a tua madre Chiedi a tua madre Quali sono gli achievement Che devo completare Per E cosa deve fare Per essere Il mio fidanzato Niente Non può essere nessuno Il tuo fidanzato Greve Si Frizzonato dalla madre Almeno se va su Marte Ma signora Sono Ma sono un bravo ragazzo Ha detto che è un bravo ragazzo Sono tutti bravi ragazzi Va tutto bene Mi dispiace Va tutto bene Ma posso Che nel 2020 Va benissimo Gli amici Gli amici Sono preziosi Gli amici Un fidanzato però è per sempre Al contrario Gli amici sono per sempre Fidanzato no Esatto Cioè Ma io mi sono fatto frenzonare Dalla mamma di Elita così ragazzi Vedete Questo è contenuto Questo Questo è contenuto Farsi frenzonare Dalla mamma Di una streamer È stato frenzonato Da te Ah l'ho frenzonato Sì Vabbè L'ho frenzonato Capita Signora ma Ma Cioè allora Io non voglio dire nulla Però Guarda che l'amicizia Ma mi sente? Ma mi sente? No Ah ok Allora Vieni qua Luca dai Luca vieni Eh Luca È tutta la famiglia Luca allora posso sapere anche solo il parere di Luca Vuole il tuo parere Cosa vuoi sapere? Ok allora Luca Io praticamente è entrata tua madre Lei fa Chi è questo ragazzo? Io faccio Il nuovo fidanzato di sua figlia Secondo te Cos'oro che non va Che non convince tua madre? La mia futura suocera Non lo so Probabilmente Il fatto che sei maschio E basta In che senso? Non ho capito Nel senso che in questo momento Sono amici Per ora Per ora Sono amici La Rob Ha bisogno solo di amici Esatto Per ora la Rob Ferma Capito? No 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 Da mamma Da mamma Io non voglio dire nessuno Non sono nessuno per dirlo eh Però Penso sia così Io sono solo il fratellino Vedete Questo è il contenuto Altro voi che giocate a caso Farsi penzolare dalla mamma di Elita È il vero contenuto ragazzi Quindi è un pseudo coming out Non sto capendo No io non ci basta Ho peggiorato tutto Basta Vedete Vedete Ho già avuto il mio primo beef Con la madre di Elita Ragazzi Questo è tipo Il video freebooting A Elita dice di essere lesbica Oppure X2 Marco viene frenzonato Dalla Ma Marco viene frenzonato Dalla mamma di Elita A farlo La carichi su youtube Raga vi prego Bye Bye Grazie a tutti.